vi siete scoperti sempre più alleati nel cammino di conversione e l'altro è diventato insieme lo sposo ma anche la croce in certi momenti perché fa inciampare sui propri difetti costringe in qualche modo alla conversione ma il vostro amore non sarà certo risparmiato da stanchezze tentazioni dubbi distrazioni è un amore per cui si combatte da quando ci si sveglia quando si va a dormire prima di tutto contro il nemico che ci ha feriti da dentro che ci rende pesanti egoisti inaffidabili tutte le cose che sappiamo oggi ci insegnate che il vostro è un amore la cui materia prima è Cristo Cristo solo basta e Cristo solo è al centro non è una scusa solo un augurio che Dio ti benedica sempre e se ne sarò degno anche l'unione con me dadi wow vediamo qual è vediamo il regalo di dadi ok wow hai visto che bello donna chi sei mami come considero il nostro incontro come un dono del signore allora il mio pensiero per te in questo giorno è speciale è una croce del Signore ti benedica sempre come un dono del vero io Cesaro accolgo te Cesaro come mia sposa con la grazia di Cristo prometto di esserti sempre fedele io Luanna accolgo te Cesaro come mia sposa con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre non lo so non lo so Sì. 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 I was, yeah. ... I found a good heart Just waiting for me, for me, for me Where I wanna be Wherever you, wherever you are Wherever you, wherever you are Wherever you, wherever you are Is where I wanna be Where you, wherever you are As if I am patient, I...